Nell'ambito delle iniziative di Natale da parte dell'amministrazione comunale di Montesilvano, domani sera al Palacongressi alle ore 21 il Gran Galà. Sì, ormai è una tradizione del Comune di Montesilvano fare questo Gran Galà concerto di Natale. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di aver organizzato questa manifestazione, intanto perché la facciamo in collaborazione con la provincia. E quindi diciamo che questa cosa ha una risonanza nell'ambito provinciale abbastanza marcata. Inoltre abbiamo l'onore di avere con noi quest'anno per la prima volta a Montesilvano il soprano della scala Carla Di Cenza. Figura di Montesilvano perché è nativa di Montesilvano, ha origini assolutamente montesilvanesi. Ed è veramente con orgoglio che la facciamo esibire quest'anno per il nostro concerto di Natale. Il concerto di Natale è organizzato insieme alla nuova scuola civica di musica comunale, che è una grandissima realtà del nostro Comune. Uno per tutti, adesso il tema è diverso, ma uno per tutti Ruggero Pasquarelli, il ragazzo che è arrivato in semifinale a X Factor. Grazie. Grazie.